Dottoressa Di Martino, un tema molto interessante, quello da lei affrontato nel corso di questo ventunesimo congresso AICO, vale a dire gli scenari futuri per gli infermieri di sala operatoria. Ce ne vuole parlare? Sì, come avete potuto seguire anche dalla diretta streaming abbiamo sviscerato l'argomento sotto numerosi punti di vista. Io faccio un po' una sintesi per quello che riguarda la nostra categoria. Gli scenari futuri sinceramente sono apertissimi nel senso che siamo in attesa di cambiamenti sostanziali che sono sanciti già sulla carta e annunciati già da tanti anni sia a livello legislativo che a livello delle varie istituzioni. Quindi noi siamo appunto in attesa con la nostra preparazione che nel frattempo si è evoluta e sta rispondendo comunque ai bisogni della salute in generale e del paziente che sono evoluti perché comunque si è innalzata la richiesta sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista qualitativo. Per cui penso che la categoria degli infermieri di sala operatoria abbia risposto in maniera competente, tecnicamente valida e anche con una resilienza da non sottovalutare. Consideriamo appunto come è stato, penso detto anche dagli altri colleghi, la risposta che abbiamo dato a proposito del Covid, cioè come abbiamo risposto ai bisogni mutati rispetto a questa pandemia. Quindi aspettiamo fiduciosi ma considerando che è il ruolo centrale che abbiamo insomma in questo cambiamento. Accennava appunto all'esperienza del Covid, ci vuole portare una sua testimonianza diretta? La mia testimonianza diretta è che ci siamo ritrovati in questo turbinio, in questo ciclone, ci siamo ritrovati nel bel mezzo come gli unici che potevano fare qualcosa. Gli unici ovviamente oltre agli altri professionisti, medici eccetera eccetera, alle dirigenze senza dimenticare nessuno. Però ecco noi siamo stati chiamati a agire direttamente sui pazienti, con gli strumenti che avevamo. Non ci siamo trovati a costruire percorsi dal nulla perché non era niente codificato, per cui ci siamo trovati a dover rispondere anche con una certa competenza. E qui penso che sia visto il nostro livello di preparazione e di resilienza. Grazie. Grazie.